Oltre la bufera è il nuovo film di Marco Cassini, giovane e talentuoso regista terramano, ispirato alla vita di Don Minzoni e ambientato nell'Italia post bellica. Ad Argenta, fuori Ferrara, i Reduci fanno ritorno, tra questi Don Giovanni Minzoni, parroco del paese che venne poi ucciso nel 1923 per mano fascista. Il film è stato presentato recentemente al Festival del Cinema di Roma, tra gli applausi del pubblico e sarà proiettato anche a Berlino, dopo l'anteprima di Teramo. Come è nata l'idea di raccontare la storia di Don Minzoni? Dopo La notte non fa più paura, il mio primo film, la mia prima opera per la quale abbiamo ricevuto un sacco di premi, tra cui una menzione speciale in Astrid Argento del 2016, Stefano Muroni, che è un mio carissimo amico, attore, che poi è diventato il protagonista del nuovo film su Don Minzoni, viene da me una sera e mi dice Marco, ho una storia importantissima per le mani e penso che varrebbe la pena di raccontarla in questo periodo storico. Ed era la storia di questo prete, che fondamentalmente non voleva piegarsi alle nuove volontà politiche nascenti. Il fascismo all'epoca stava operando una nuova situazione di istruzione nei confronti dei giovani ed era anche positiva talvolta, ma in quel momento specifico d'Argenta, nella città di Don Minzoni, c'erano dei gruppi anche violenti. Come è andata la proiezione al Festival di Roma? Meravigliosamente perché c'è stato un lungo applauso da parte del pubblico che mi ha emozionato molto. Io nasco a Teramo, per me ho sempre cercato di lavorare con umiltà e dedizione nei confronti del cinema e quindi vedere delle persone esperte che si alzano in piedi, ti fanno un applauso e dicono questo è un grande film, per me è un risultato importante. Quanto è difficile per giovani artisti come lei trovare i finanziamenti per fare questi film? Difficilissimo e se non fosse stato per Valeria Luzzi, che è la produttrice esecutiva, e Stefano Muroni, che è l'attore protagonista e anche produttore, sarebbe stato difficilissimo per me. Lei parte da Teramo, cosa le ha dato Teramo? Tutto, la mentalità, l'istruzione, l'umiltà, la schiettezza, la dolcezza, questo posto ha tutto per quanto mi riguarda. Noi abbiamo mare e montagna, io penso di portarmi nel cuore sempre questi valori in realtà. Il prossimo film? Il prossimo film sarà, spero, il mio vero grande film di lancio da un punto di vista di budget e sto spingendo per realizzarlo nella mia città. Oltre alla bufera è un progetto cinematografico prodotto da Controluce Produzione con il sostegno della regione Emilia-Romagna. Oltre alla bufera è un progetto cinematografico prodotto da Controluce Produzione con il sostegno della regione Emilia-Romagna. Oltre alla bufera è un progetto cinematografico prodotto da Controluce Produzione con il sostegno della regione Emilia-Romagna. Oltre alla bufera è un progetto cinematografico prodotto da Controluce Produzione con il sostegno della regione Emilia-Romagna.